Buongiorno, insomma, attendiamo il vostro resoconto e il resoconto dell'Asla per i nuovi casi di Covid-19. Ieri sono arrivate alcune polemiche da parte dei sindaci. Il sindaco di Cifitella Maldichiana ha smentito i dati che sono stati comunicati dall'Asla. Il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai, invece, ha detto che comunque i dati non erano così corretti, che comunque non vengono comunicati con tempestività o comunque con non congruità tra quelli comunicati dalla regione toscana e quelli dall'Asla. Ecco, come rispondete? Qual è la problematica? Allora, in ordine ai fatti accaduti ieri, chiedo scusa per il disguido che si è verificato. In effetti il problema c'è stato ed è all'interno dei nostri sistemi informatici. L'errore è stato corretto. Credo che entro oggi daremo dei dati corrispondenti alla realtà dei fatti. Per quanto riguarda le comunicazioni ai sindaci, ricordo che i sindaci hanno accesso al portale, allo stesso portale a cui accediamo noi. Capisco le difficoltà da parte dei sindaci e faremo di tutto per ridurre il loro disagio. Ma la fonte informativa per noi e per loro è la stessa.